Dopo i processi, dopo l'operazione Ibris che mi ha portato ai carabinieri, diciamo che le ritorzioni dei miei ricordi non sono mai terminate. Ci sono susseguite diversi episodi, sempre puntualmente attenzionati alle forze dell'ordine, ai carabinieri che a volte hanno svolto e stanno svolgendo attività per la mia sicurezza. Nel corso dei mesi sono successi altri episodi, mi hanno messo il coltello nella rota della macchina dei miei compagni, poi mi hanno fatto altre velate estorsioni, di tentativi estorsivi nuovamente. Poi una persona è venuta a minacciarmi qua sul mio posto di lavoro, ho avuto subito due rapine, rapine dove non erano state finalizzate solo, il rapinatore è entrato cercando che fosse il titolare, mi è entrato dicendo il proprietario dov'è, questa è stata la prima, la seconda successiva rapina che poi si è svolta dopo due giorni, io ero presente nel locale, però al momento che ho visto i rapinatori entrare, sono scappato all'interno per chiamare le forze dell'ordine, e lì lascia addirittura mia mamma da sola, perché è stata straordinata anche strantonata dal rapinatore, la difesa era una banconista, poi anche lì seminando il panico hanno preso dei soldi e sono andati via. Quindi nel corso, dopo i processi, ho anche arrivato una lettera intimidatoria, ovviamente è stata pure attenzionata l'arma dei carabinieri che mi è stata sempre vicina. Ho avuto anche la notte alle due mezzer mattino, lo stuzzicarenti nel campanello, ovviamente lì sempre attenzionato, tutto dalle forze dell'ordine. Poi da poco ho cambiato casa e sono venuti anche a casa nuova, alle 11 di sera, bussando, dicendomi di aprire il portone, che era pubblicità, chiedissima, alle 11 di sera, c'è uno che le capiva, apri il portone. Questo è pochino si fa. Nonostante la tutela, qualche personaggio noto, rionale, è entrato dentro la mia testa a cerire, nonostante avessi la tutela. Non si sono minimamente preoccupati di entrare all'interno del mio locale. Io nel corso di questi anni, dopo tutte queste minacce che lentamente ho subito, ho avuto dei problemi psichiatri. Io sono in cura con un neuropsichiatra dell'Asdia, il quale poi le associazioni anti-acriti mi hanno mandato in una commissione medica, sto da lì, dove sono stato visitato e ho avuto riconosciuto un'invalidità. Si sentirebbe di chiedere qualcosa a queste persone, tra virgolette? No, io mi sentirebbe solo di chiedere alle persone oneste che non mi hanno avuto. Io vorrei... Io ho 45 anni per questa pasticceria, per soltanto entrare in cura delle persone buone, adesso che ci sono, sono tante, dire non voglio essere una sola, voglio essere aiutata. Ma ho anche aiutato anche, anche dico, una stretta di manco per dire siamo lontani dell'avento, non se facciamo. E' questo, se ho fatto questo lo rifarei. E lo faccio per tutti, lo faccio per mio figlio, lo faccio per la mia famiglia. Però ma anche oltre il mio figlio che ha 13 anni mi dice, papà perché non ce n'è un buono? La mia non deve essere, io questa mattina non volevo aprire, perché il mio figlio, sapendo la sua storia, dice non voglio che ho pubblico la tua attività. Ma guarda, io non ce la faccio più, io non ho le forze, perché in questo periodo di minacce che ho subito, ovviamente ho lasciato la mia compagna sola all'interno della pasticceria. Anche lì lei si è trovata sola e molte volte anche inizia a avere, non dico forse problemi in famiglia, ma un pochettino dico, la mia famiglia si sta abitivando tutto. Perché anche mia moglie dice sì, se tu la tutela veniva, io sono solo a paura. Dopo gli ultimi episodi è stato un seguirsi, nonostante la tutela, pensavo di essere al sicuro che nessuno potesse più venirmi. Lì invece, ricordo le parole che mi disse una persona che fece restare, che mi disse, dice, a lungo andare te la faremo pagare, tu di qua te ne andrai. Dopo gli agnesti una persona venne qui, che poi fece restare a scuola, e mi disse, se non andare più a qua te ne andrà. E io forse mi rendo conto che forse quello che lui mi aveva detto si sta avvenendo. Perché io economicamente e anche psicologicamente non ce la faccio più. Questo chiedo. Il prefetto mi ha anche aiutato, ha ascoltato pure me, mia moglie mi ha accolto, è stata molto umana. L'anno dei carabinieri mi è stata vicino, le associazioni mi sono state vicine, sono stati tutti vicini. Io vorrei che l'opinione della pubblica potesse veramente dire, noi siamo contenti, non sia da solo con questa battaglia, in questo ruolo, noi siamo contenti. Questo chiedo. Grazie a tutti.